Le olive, sì, con operatività dal primo di luglio, con efficacia in tutta Europa, ma soprattutto ricordiamo che dobbiamo aiutare gli olivicoltori pugliesi, ma in generale gli olivicoltori nazionali, siamo il secondo paese esportatore e produttore del mondo, in un momento nel quale in Puglia si vende con difficoltà a 2 euro il chilo l'olio. E si importa olio da tutte le parti del mondo, che è olio che poi con la bacchetta magica viene trasformato in olio italiano.